Ad Albanella ieri un'anziana è caduta su un marciapiede lungo la strada comunale che collega via Roma con piazza Cavalieri di Vittorio Veneto e ha riportato la frattura alla caviglia. Il percorso del marciapiede è stato chiuso dalla polizia locale diretta dal comandante Luigi Guarracino per consentire all'ufficio tecnico comunale di effettuare i necessari sopralluoghi. Per la vittima è stato necessario il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale di Roccadaspide con una prognosi di 40 giorni. Il marciapiede al momento si presenta molto scivoloso a causa della presenza sulla pavimentazione di erba e muschio che non ne garantiscono la sicurezza. La pavimentazione dovrà essere ripulita e messa in sicurezza. La vittima non è escluso che procederà con una richiesta di risarcimento danni al comune. Non è la prima volta che si verifica un simile episodio. Qualche tempo fa per la pavimentazione disconnessa dal marciapiede in via Roma un'altra anziana fu vittima di una caduta riportando la frattura di un braccio.